L'Europa non è lontana e in Toscana è ancora più vicina di quanto si possa pensare. Anche nella provincia di Lucca, dove il presidente della regione toscana Enrico Rossi si è recato per la quinta tappa del suo tour nelle città, nelle aziende e negli enti che hanno utilizzato i fondi europei per crescere, creare lavoro e nuove opportunità. Ad accompagnarlo nella visita la commissaria europea per le politiche regionali Corina Cretu. Prima tappa i cantieri aperti nel centro storico alla ex manifattura tabacchi che entro un anno dovrà diventare una struttura di alta formazione. Il piano urbano Pius nella città vecchia è stato finanziato con 16 milioni e 700 mila euro del programma operativo PORFESR 2007-2013. Abbiamo visto tre situazioni, ne avremmo potute anche vedere altre, ma pensiamo queste significative. E cioè come abbiamo mandato avanti i progetti di rigenerazione urbana dentro la città di Lucca, grazie ovviamente alla capacità di progettazione del comune, ma anche con fondi europei consistenti. Avete visto la manifattura tabacchi, la cavallerizza, il teatro del Giglio, il quartiere Sant'Anne e San Vito. Tutti questi interventi che stanno facendo rivivere Lucca, Lucca dentro come è stato detto, poi hanno una valenza sociale, culturale, una valenza per la vita dei cittadini. Sono stati finanziati anche con fondi europei e con fondi regionali. L'Europa insomma è stata decisiva per poterli fare, per poterli realizzare. Un ruolo decisivo che, ha detto la commissaria Cretu, fa della Toscana una delle regioni che meglio sanno spendere i fondi che arrivano dall'Europa. Nel periodo 2007-2013 è stato speso infatti il 118% dei fondi ricevuti, mentre per il periodo 2014-2020 alla Toscana è andato un miliardo e mezzo dei 44 miliardi di fondi europei destinati all'Italia tra Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo. Sono molto contenta di essere a Lucca perché fino ad oggi in Toscana avevo visitato solo Firenze. Sono rimasta colpita dalla bellezza della città e dall'alta qualità dei progetti che soprattutto i giovani hanno deciso di portare avanti qui con l'aiuto dei fondi dell'Europa. Europa in Toscana significa anche imprese innovative e dinamiche come la futura Guamo nel territorio comunale di Capannori, seconda tappa del tour lucchese del presidente Rossi e della commissaria europea Cretu. L'azienda conta 140 dipendenti altamente specializzati, compresi quelli a lavoro nelle filiali, ed è attiva nel distretto dei macchinari per produrre carta per fini igienici e sanitari. Abbiamo visitato l'azienda Futura, è un'azienda che lavora nei macchinari per la produzione di tissue nella carta del distretto cartario di Lucca. E' un'azienda importantissima che sta facendo progetti di automatismi di telematica finalizzati alla sicurezza, finalizzati ad essere più competitivi e a produzioni di migliore qualità. Si tratta dell'industria 4.0. Anche qui ci sono stati importanti contributi dell'Unione Europea perché la nostra scelta è stata quella non di dare i finanziamenti europei disperdendoli, ma concentrandoli verso quelle aziende dinamiche che investono e che fanno fatturato. Naturalmente Futura è solo un esempio perché i casi sono ancora tanti in questo distretto. Nello specifico, alla Futura sono stati investiti oltre 4 milioni e mezzo in due progetti. Le risorse europee sono state di 634 mila euro, mentre un altro milione e 270 mila euro sono arrivati da contributi pubblici. Contributi determinanti per spingere l'azienda nella direzione della fabbrica intelligente. Abbiamo realizzato grandi cose, sicuramente il contributo della Commissione Europea ha facilitato, ha supportato quella che è un investimento, un credo importante dell'azienda dove nella direzione della ricerca e dello sviluppo, che caratterizza sicuramente Futura nel compartimento. Gli investimenti che destiniamo ogni anno sono sicuramente importanti, avvicinano il 10% del valore della produzione, dedichiamo moltissime ore, circa l'11% della forza lavoro, in ricerca e sviluppo proprio per questo credo nella innovazione, come elemento di differenziazione e di creazione di vantaggio aggiunto. Ma cosa di preciso è stato possibile realizzare anche grazie ai contributi europei? I progetti sono due, in realtà sono in sequenza nel tempo. Il primo progetto si chiamava SlatCut, tutti e due sono progetti per l'innovazione tecnologica, per fare cose che ci differenziano, come ha giustamente detto Piero, dalla nostra concorrenza. Quel progetto è stato per sviluppare questa linea che vedete, è una linea ad altissima automazione, mai fatta prima, e che ha portato Futura a poter penetrare meglio i mercati più sviluppati al mondo. All'hotel San Marco di Lucca, l'Europa ha sostenuto i progetti per la riduzione dei consumi di energia. Qui, altra tappa del tour di Rossi e Cretu, grazie ai 57.200 euro di contributi pubblici, metà dei quali da fondi Fesre, sono stati spesi 143.000 euro per installare sul tetto i pannelli fotovoltaici. I fondi europei per il risparmio e l'efficientamento energetico sono stati utilizzati e hanno consentito di fare interventi che hanno migliorato la qualità ambientale, ma anche consentito ovviamente di risparmiare a ben 35 tra alberghi e stabilimenti nella provincia di Lucca. Quanto dunque sono stati importanti i fondi arrivati dall'Europa per rendere la struttura più efficiente sul piano energetico? Per noi sono stati fondamentali, senza questa partecipazione probabilmente non l'avremmo fatta. A Lucca, è stato spiegato, i fondi dell'Europa sono serviti anche per il PU dei quartieri periferici Sant'Anna e San Vito e poi ci sono i fondi per l'innovazione delle imprese come la Silma e la Lucart a Porcari. L'apporto dell'Europa e l'accesso ai fondi europei è stato essenziale per poter iniziare e cominciare la progettazione, la messa in opera delle attività che consentiranno poi di recuperare una parte significativa della città perché poi altri investimenti seguiranno e la parte ovest della città sarà interamente recuperata. Ma i fondi europei servono anche per i quartieri, per revitalizzare quartieri che da anni non hanno interventi, da decenni non hanno interventi significativi, quindi quello che abbiamo fatto e che faremo anche sui quartieri periferici risente anche di questa possibilità che l'Europa ci ha dato. Quindi io voglio mettere soprattutto l'accento sulla concordanza tra il momento europeo, il momento regionale e le istituzioni locali. Questa concordanza, questa collaborazione è essenziale per raggiungere dei buoni risultati. I fondi europei che arrivano in Toscana, ha ricordato il presidente Rossi nel corso della tappa a Lucca, equivalgono allo 0,2% del PIL regionale e se si somma la quota statale regionale si arriva allo 0,5%. C'è un valore dei fondi europei sicuramente, ma c'è un valore delle politiche europee. Sono certo che queste politiche che prima rammentavo sarebbe stato molto più difficile realizzarle se non ci fosse stato lo stimolo dei programmi europei ad incentivarci in una certa direzione, che poi è quella della qualità, del benessere, dell'innovazione tecnologica, della tutela dell'ambiente. Quindi l'Europa non si può solo misurare su quanto diamo e quanto prendiamo. L'Europa è una civiltà, chi si dimentica questo e chi erge muri guarda indietro. Io credo che bisogna invitare i cittadini a guardare avanti e non indietro. Cittadini a cui si è rivolta al termine della visita anche la commissaria europea Cretu, ricordando la vicinanza dell'Europa. Vorrei ringraziare il presidente della regione e il sindaco di Lucca per questa accoglienza. Noi vogliamo dimostrare alle persone che siamo tutti vicini come europei e solidali nel creare lavoro e crescita per rendere migliore la vita dei cittadini. Nel complesso a Lucca e provincia dal 2007 al 2013 sono stati distribuiti oltre 184 milioni di euro che hanno permesso di finanziare 6049 progetti. I contributi del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale sono stati di 119 milioni di euro che hanno portato a 210 milioni di euro di investimenti per 720 progetti. Il Fondo Sociale Europeo ha contribuito per 37 milioni e mezzo di euro su 4.648 progetti. Il Fondo Europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha portato 28 milioni di contributi per 59 milioni di investimenti finanziati e 681 progetti e per il setennato 2014-2020 sono già stati concessi quasi altri 93 milioni.